Abbiamo lavorato sin dall'inizio del nostro mandato affinché questo palazzo fosse restituito alla cittadinanza, alla comunità mombaroccese, prima della fine del nostro mandato. Abbiamo scelto la data di Natale con lavori che abbiamo fatto obiettivamente anche in maniera molto celere, specialmente nell'ultimo periodo, in modo tale che fosse l'ultimo regalo che potessimo dare come amministrazione comunale entro l'anno alla nostra comunità. Un valore aggiunto che torna a brillare di luce propria, che mettiamo a disposizione per Cultura 2024, sarà oggetto di intervento per tutte quelle che saranno le attività culturali che promuoveremo come Mombaroccio nel percorso del 2024, quale Pesaro, Città della Cultura, e quali settimane che riguarderanno Mombaroccio in questo percorso. Un percorso che ci ha visto coinvolti fin dall'inizio proprio perché credevamo che con la cultura si potesse dare il valore aggiunto a un territorio meraviglioso e con il piacere e l'onore di amministrare ormai da quattro anni e mezzo. E non potevo vedere che questo palazzo che ha alle nostre spalle potesse rimanere chiuso a fronte di un percorso forse un po' troppo rapido nella sua valutazione per Italia, voglio usare questo termine, e che ha visto come amministrazione intervenire per 650 mila euro di interventi mirati all'antisismica. Quindi un miglioramento sismico che ci permette di calpestare il palazzo in ogni dove. Se aggiungiamo a questi 650 mila euro il ribasso di un 30% vuol dire che abbiamo fatto lavori per oltre 800 mila euro. A questi si aggiungono progetti che subito abbiamo portato avanti, 58 mila euro di progetto preliminare, 125 mila euro di definitivo esecutivo per ridare a Mombaroccio una luce che questo palazzo permette di avere. E' quindi un luogo, un ritrovo culturale che può diventare luogo di studio, luogo di eventi, luogo di promozione economica e soprattutto turistica. E' un palazzo che doveva assolutamente essere riaperto perché è un pezzo di storia di Mombaroccio. E' il palazzo nel quale è vissuto Guido Baldo del Monte che era un insigne matematico, filosofo, scienziato ed era anche il mentore di Galileo Galilei. E in questo momento posso dire che stiamo respirando la stessa aria che ha respirato anche Galileo perché è stato qui, almeno questo risulta da alcune epistole che abbiamo studiato, c'è stato uno scambio fitto di epistole tra Galileo e Guido Baldo e pare che Galileo abbia poggiato i piedi dove siamo noi adesso. Fece tantissimo per Mombaroccio, pensiamo alla corrispondenza con Galileo Galilei, il museo scientifico, la leva, la carrucola, si parla anche dell'orologeria, un percorso che questo matematico, filosofo, scienziato ha fatto sì che Mombaroccio potesse veramente essere valorizzato sotto caratteristiche culturali e scientifiche che sono quasi uniche nel suo genere. C'è dell'altro che proveremo a proporre nel 2024, c'è un percorso legato all'orologeria di Guido Baldo del Monte. Vuol dire che qui si stava studiando il tempo, come organizzare il tempo, come creare i primi orologi ed è un valore aggiunto. pensate cosa possa voler dire avere la consenvolezza del tempo, studiare il tempo e capire per esempio in mare quando dover uscire a quella determinata ora e quando dover rientrare. C'è una corrispondenza enorme con Urbino da questo punto di vista, con i della Rovere, fra Guido Baldo, proprio perché c'è una sinergia enorme di storia e scienza che mi riempie di orgoglio perché abbiamo il dovere sia di evidenziare ma soprattutto di valorizzare.